Cortina è un paese piccolo, però in sé molto molto potente, tra qualche anno lo diventerà ancora di più, come noi del curling, siamo uno sport piccolo ma potente. Stefania, sarai tu il volto di Cortina nel mondo da qui alle Olimpiadi del 2026. Sei contenta di fare da ambasciatrice e quale messaggio vorresti trasmettere? Essere l'ambasciatrice di Cortina è motivo di grande orgoglio per me, perché comunque sono legata al nome del mio paese, della mia Cortina. Secondo me un messaggio molto importante è proprio che Cortina è un paese piccolo, però in sé molto molto potente, tra qualche anno lo diventerà ancora di più, come noi del curling, siamo uno sport piccolo ma potente, che porta risultati e quindi mi piace anche questa connessione, questo legame che c'è. Chiaramente, lo ripeto, è il mio paese da rappresentare Cortina, è bellissimo. Mi ritengo molto fortunata perché alla fine il curling, la mia passione, è diventato il mio lavoro, grazie alle Fiamme Oro da qualche anno. E quindi sì, non posso fare a meno che dirlo col sorriso o sorridere quando parlo del curling, del mio sport, appunto della mia passione. E appunto il poterlo fare anche parlando di questa nuova collaborazione con Cortina è fantastico. Quindi il poter sorridere parlando del nostro territorio e cercare di rappresentare al meglio noi tutti. Dicono che sia scattato l'effetto Stefania e dicono che molti giovani si stanno avvicinando al ghiaccio seguendo te. Tu come hai cominciato, come hai scoperto il curling? Io ho iniziato all'età di otto anni perché mi sono trasferita da una zona di Cortina ad un'altra e in questa nuova zona ho conosciuto una ragazza che già giocava curling, aveva bisogno di altre ragazze nella sua squadra, così mi ha chiesto di andare a provare questo sport che per me era sconosciuto fino a quel momento e me ne sono innamorata. Chiaramente cosa posso dire a chi vuole provare o chi appunto si addentra in questa avventura del sport degli hutch, del curling? Chiaramente che è uno sport completo e sicuramente è da provare perché provarlo e guardarlo è diverso. Sicuramente divertente, è uno sport dove c'è anche la parte faticosa e appunto lo si prova solo testando e poi c'è anche tutta una parte di strategia e tattica e quindi dà importanza anche al ragionamento, alle scelte ponderate, però comunque non è un limite di tempo perché noi giochiamo con il tempo, per cui il curling tocca un po' tutti gli aspetti, la fatica, il ragionamento, l'essere furbi e poi chiaramente il divertimento perché è uno sport di squadra e si condivide una passione, un gioco. Alle Olimpiadi di Pechino avete via via battuto le squadre più blasonate e ricche di esperienza. Quando avete capito che potevate puntare davvero in alto e addirittura regalare l'oro all'Italia? Alle Olimpiadi io e il mio compagno di squadra Musmosanner abbiamo avuto una settimana pazzesca, eravamo entrambi carichi e sul pezzo dal punto di vista della performance e siamo partiti molto bene vincendo partita dopo partita e dopo esserci qualificati come prima squadra per le semifinali ci ha dato ancora di più quella voglia di finire il lavoro e ho iniziato così bene. Quindi dopo esserci qualificati avevamo ancora qualche partita da giocare del round robin che ci siamo detti di affrontare come se fosse una partita ancora importante con valore per la qualificazione delle semifinali o come se fosse la stessa semifinale e questo ci ha aiutato poi ad affrontare la semifinale e poi la finale con il giusto spirito. Quindi sicuramente il buon inizio ci ha dato una carica in più, una spinta in più e poi la qualificazione ancora prima che finisse il round robin ci ha dato sicuramente è stata un po' la ciliegina sulla torta per concludere appunto il lavoro fatto fino a quel momento. Stefania sei giovane, giovanissima, come è stato lasciare la tua piccola cortina per proiettarti in quel mondo, in quella competizione a Pechino nel 2022? Alle Olimpiadi di Pechino avevo 23 anni, Pechino è stato nel 2022 e io sono nata nel 99 ed è stato bellissimo, grandissimo. Io appunto arrivo da un paesino piccolo, dalla cortina piccola e da uno sport non tanto conosciuto quindi è stato entrare proprio in un mondo molto molto più grande forse nel mondo più grande in cui io sia mai entrata e l'ho affrontato con il motto di godersi il presente, di godersi il momento perché era un'esperienza unica e penso, sono molto contenta perché penso di esserci riuscita al meglio io ho bellissimi ricordi a parte il risultato che chiaramente aiuta però poi anche il mondo in cui sono stata proiettata dopo è stato un grandissimo cambiamento perché noi siamo passati dal nulla possiamo dire perché il curling non era conosciuto nessuno ci conosceva ad essere la coppia che aveva vinto l'oro in questo nuovo sport, abbiamo suscitato un sacco di curiosità ed è stato bellissimo, certo che però è stato strano perché è stato proprio un cambiamento velocissimo e grandissimo Un'altra fortuna del nostro sport è che si viaggia tantissimo siamo più all'estero o comunque fuori dall'Italia che a casa e i prossimi appuntamenti sono il campionato italiano le finali di Serie A che giocheremo la prossima settimana a Pinerolo per poi andare in Svezia a giocare un torneo del circuito internazionale della Federazione Mondiale del Curling poi ci saranno le finale del campionato italiano di Mixed Tables qui a Cortina per poi andare in Canada con la squadra femminile per giocare il campionato del mondo in Canada a Sydney e ad aprile l'ultimo appuntamento della stagione sarà il campionato mondiale della disciplina di Mixed Tables però stiamo aspettando la selezione da parte dei nostri allenatori per capire quale sarà la squadra che vi parteciperà ma questo è il nostro calendario da qui a fine stagione Però tu hai dichiarato che Cortina è casa ti è sufficiente allenarti a Cortina per mantenere una preparazione di altissimo livello? Qui a Cortina abbiamo la fortuna di avere delle piste su cui allenarci però chiaramente non basta restare qui a Cortina per vari motivi il primo è che il ghiaccio è una variabile sempre e comunque il ghiaccio di Cortina, il ghiaccio del Canada, il ghiaccio della Svezia eccetera eccetera è un ghiaccio che cambia è sempre diverso ci sono sempre delle variabili addirittura anche nello stesso campionato prendiamo un esempio nel campionato europeo noi giochiamo un tot di partite ma durante ogni partita il ghiaccio può cambiare anche durante la stessa partita addirittura quindi bisogna essere molto bisogna avere una capacità di adattamento sempre pronti a cambiare con quella sensibilità di cui parlavo poco fa ad essere pronti ad affrontare questi cambiamenti e quindi sicuramente l'allenarsi a casa ma anche cambiare ghiacci sia in Italia che all'estero permette di creare molta più esperienza per affrontare ogni tipo di ghiaccio e chiaramente il ghiaccio per esempio in Canada è un ghiaccio di qualità superiore rispetto ai nostri palazzetti in Italia in Canada il curling è uno sport importantissimo è quasi uno sport nazionale insieme all'hockey e lì si vede proprio la differenza anche del ghiaccio dei palazzetti di come è gestito il tutto noi in Italia chiaramente siamo fortunati di avere qualche infrastruttura che al momento sono solo in Nord Italia mi piacerebbe che nei prossimi anni chiaramente le infrastrutture crescessero un po' di più e anche insieme a loro la qualità del ghiaccio per poter far crescere sempre di più anche le nostre squadre italiane noi a prescindere come ho detto prima viaggiamo molto per partecipare a tornei internazionali e per fare punteggio per crescere nel ranking mondiale per poi accedere ai tornei d'elite come il Grand Slam però chiaramente ci sono dei momenti in cui dobbiamo allenarci anche a casa e perché no alla fine in ogni cosa e qualsiasi persona, qualsiasi cosa si può sempre migliorare quindi spero che con la crescita del nostro sport possano migliorare sicuramente anche la qualità delle nostre infrastrutture e anche le infrastrutture stesse Vista da fuori, vista dalla prospettiva delle competizioni mondiali a cui partecipi, com'è Cortina? Che cosa le manca? Che cosa ci occorre in generale per diventare davvero un punto di riferimento fisso per le discipline sportive invernali? Cortina, come dicevo poco fa, è un paese di montagna è un paese di turismo ed è piccolo siamo piccoli, anche se potenti come dicevo poco fa ma siamo piccoli rispetto a una città canadese o una città dell'America o una città della Corea proprio per gli spazi per gli spazi stessi e quindi chiaramente le cose che Cortina o un'altra città possono offrire sono diverse ogni città e ogni luogo ha i propri vantaggi e i propri magari punti su cui si può migliorare chiaramente Cortina offre un'accoglienza che un'altra città non potrebbe dare così come una grandissima città può offrire anche servizi al di fuori della competizione stessa che Cortina non può offrire quindi non mi piace andare a rimarcare magari gli aspetti che Cortina non ha o che mancano a Cortina perché in sé i punti di riferimento cambiano sono tutte realtà diverse e secondo me bisogna prendere il lato positivo di ognuna di queste e appunto io avrò anche l'occasione di vedere un po' le diverse realtà tra qualche anno perché avrò la fortuna di vivere un'Olimpiade in casa in un paesino piccolo che tra l'altro è il mio paese e paragonarlo un po' a quella che è stata l'esperienza di un'Olimpiade che è sempre un evento grandissimo però in Cina, a Pechino una città completamente diversa rispetto a Cortina quindi avrò modo anche lì di tastare con le mie stesse mani di vedere concretamente quali sono effettivamente le differenze però credo che bisogna sempre prendere il positivo di entrambe le situazioni e chiaramente cercare magari di prendere spunto da altre realtà certo per migliorarsi sempre di più perché come ho detto prima questo è un po' la base di ogni cosa che non è così è un po' la base di ogni cosa ma è un po' la base di ogni cosa